Il bilancio dei parcheggi per quanto riguarda la scorsa estate in città, cosa è venuto fuori? Che estate è stata a livello di parcheggi? È stata un'estate perfettamente commisurata alla importanza che Pescara ha assunto a livello nazionale e io direi anche a livello internazionale per il conseguimento della bandiera blu. Questo vuol dire che forse dopo diversi anni abbiamo avuto a Pescara turisti italiani e stranieri i quali sono arrivati in città anche con le automobili e hanno avuto la necessità di trovare un'offerta di parcheggi estivi che fosse adeguata ad una città che ormai ha anche una connotazione turistica oltre che quella destagionalizzata che è una caratteristica di Pescara. E allora 1800 posti auto che sono stati messi a disposizione da nord a sud per i cittadini pescaresi, per i cittadini abruzzesi e per tutti coloro che hanno raggiunto Pescara apprezzandone la bellezza, apprezzandone le attività economiche e apprezzando soprattutto la trasparenza del nostro mare. Con degli incassi ragguardevoli migliorati rispetto al 2020 di circa il 40% e questo è un aspetto anche positivo perché consente alla società Pescara Multiservice che gestisce i nostri parcheggi cittadini di poter anche programmare ulteriori investimenti. Sicuramente questa è stata una stagione un po' particolare perché l'assessore come già illustrato abbiamo esteso le aree di parcheggio a pagamento estive nella riviera sud, nella riviera nord, nella strada parco che quest'anno è stata maggiormente utilizzata in più fine settimana rispetto al passato. Il valore aggiunto di questa stagione è stata la programmazione di una segnaletica per i parcheggi estivi della riviera sud che ci hanno consentito di poter far lavorare in quella zona durante la settimana gli ausiliari della sosta e questo ha consentito anche di ridurre i costi del personale per la stagione estiva e quindi la società quest'anno ha avuto sicuramente un bel margine rispetto a quelle che sono state le soste estive.